Un nuovo posto a pochi chilometri da dove ci siamo lasciati nell'ultima puntata. Siamo in un altro luogo, segno della presenza dei cappuccini della provincia di San D'Angelo e Padre Pio e precisamente siamo nel convento di San Severo, Foggia, è il convento della mia città, della città dove io sono nato e in parte vivo. E dicevo nuovo luogo, nuovo posto ma sempre il tema della felicità. Il tema di educarci alla felicità attraverso la riscoperta della speranza. Questa parola, questa virtù, questa realtà che stiamo scandagliando grazie alle parole di Papa Francesco, stiamo pilluccando un po' da una catechesi che lui ha fatto sulla speranza. Anzi, alcuni anni fa il Papa ha dedicato più di un mercoledì, che è appunto il giorno in cui lui tiene l'udienza generale in Piazza San Pietro, l'ha dedicata al tema della speranza. La speranza che ci aiuta a essere felici e a infondere la felicità. Sperare molte volte deve fare la lotta con lo scoraggiamento, con la disperazione nei casi più gravi, nei casi più dolorosi. Come fare allora ad affrontare questi momenti di delusione, di abbattimento? Come fare a reagire? Ascoltiamo le parole del Papa. È importante quello che Papa Francesco ci sta dicendo, perché la lotta per educarci, per possedere, per lasciarci abitare dalla speranza, deve incontrare necessariamente non solo il senso della disperazione, molte volte, o dello scoraggiamento, ma qualcosa di più grave, che è l'inutilità. Molte volte noi non diamo quello che dovremmo dare, non costruiamo quello che dobbiamo costruire, non ci impegniamo così come dovremmo impegnarci, perché ci sentiamo inutili. Eppure questo potrebbe rasentare, tra virgolette, il peccato, perché Dio ci ha messo dentro il seme dell'assoluto, Dio ci ha messo dentro la sua immagine, la sua somiglianza. E quindi questo non dovrebbe mai farci sentire persone inutili, perché se io mi sento una persona inutile, vuol dire anche in maniera, diciamo, indiretta, che Dio mi ha fatto inutile. E questo non è affatto vero. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.